Non abbiamo notizie, forché la conferma, chiaramente l'avvenuto stanziamento del grande lavoro fatto dal sindaco e dall'assessore Guccione con il ministro, però sull'arrivo e la tempistica arriveranno sicuramente come tutti gli altri stanziamenti del PNRR e poi verranno gestiti dai comuni e dalle città metropolitane. Sentivo ieri il premier Draghi che parlava della responsabilità che quella che sarà dei sindaci delle città metropolitane e dei sindaci dei comuni, poi alla fine nella gestione effettiva di quelle che saranno queste risorse che mai sono state stanziate né gestite così tante da parte dei sindaci. Stamattina leggevo delle indicazioni per esempio del sovrintendente che diceva che 15 milioni così in manutenzione non gli erano mai capitati da questo punto di vista e quindi dedicati ad alcuni complessi importantissimi del nostro territorio come Santa Maria Novella, Montesenario, il complesso di Sangaggio. È importante mettere a regime una possibilità come questa per far ripartire lo sport e la cultura che sono stati dei settori danneggiati tantissimo. Credo che dobbiamo dare un altro ruolo, un'altra degnità allo sport. Il 27 come coni provinciali stiamo organizzando gli stati generali delle società sportive. Sarà presente il presidente Giovanni Malagò, sarà presente il presidente del credito sportivo Andrea Bodi, sarà presente l'ex ministro dello sport Luca Lotti, il sindaco Dario Nardella, l'assessore allo sport Cosimo Cuccione. Saranno gli stati generali di tutta la provincia di Firenze e della città metropolitana. Quindi mi aspetto che venga un'interlocuzione nell'interesse delle società sportive. Di solito facevamo gli stati generali dello sport a volte. Ecco, questa volta partiamo dal basso e diamo attenzione alle criticità delle società sportive.